questa cosa è greve ragazzi però qua non prende bene mi senti bene? senti una cosa ma se ti firmano 5 che te vanno menare e te vanno levare la collana te che fai? aspetta che ti chiamano su whatsapp non sembrava manco lui sembrava un'altra persona ma chi è? mi hanno rubato il telefono in diretta imaranza il telefono aspetta vabbò chiama su whatsapp pronto pronto? ma chi è? pronto? ma chi è? pronto? ma chi è? 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 papà tutto a posto? lo sono messo paura se l'hanno rubato il telefono si vai rubato il telefono no papà no dove? io rubato sto telefono a sto signore che ho trovato pure in bel telefono dai va a entrare abbiamo cercato un 5 e gli avevo rubato ho messo paura in iitti sta qua fuori lì per lì non l'avevo capito era lui che suonava ma una cifra preoccupata all'inizio quella voce quel pronto ho detto ma chi è però io ho pensato sai il lag magari ha distorto un attimo la voce ho pensato però può un'altra voce top gag è bello perché non mi aspettavo che va a capire che sta qua fuori e che era Simone bravo hanno rubato il telefono il telefono a papà io mo so preoccupato per papà chissà che cazzo ma l'hai chiamato? si c'era uno che parlava strano tipo grondo grondo e chi era? dice che hanno rubato hanno giampato cane pazzo hanno giampato cane pazzo ci hanno fatto ci hanno fatto questa minaccia di Maranza non parlate di noi stiamo pure a Roma via qua Massi bello ma ciao 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 Autore dei sorrisi